il primo colpo nonno è una belva porca miseria ciao bella gente come state? vi state sguagliando anche voi come noi? noi siamo in una scatola di sardine però è bello prossimo lo voglio col servo sterzo mi sono venuti due bracci che sarebbe un po' di builder porca miseria ora non è che mi dispiace però finiti fai una fatica io ero abituato alla fiesta io porca miseria ma vai a lavorare barbone lavoro è una parola grossa su da brava su dai bici guarda io fermo stai ferma ce la fai amore sennò la vuoi mettere in bagno ma cosa è che ti fai spaventare un disco a capire questo tipo di bagno non c'è l'acqua Mimì vai amore è già aperto devi solo chiuderlo c'è la molla come si fa a guardare uno così e fermala come viene ancora? capendo da porca riesce ad aprire da porca? completamente si schiaccia ci vuole il trasportino amore oggi mi sa cos'era camminavo in verticale anche il salotto sulle finestre qua non so che cavolo tra forse si è svegliato ha fatto qualche incubo io non lo so però di solito aveva rotto i maroni stamattina ho cominciato a tirare sul camper così avete visto un pezzettino di camperessa ma solo quel pezzo di maglietta adesso vada fare spese nel supermercato tedesco guarda come sono gentili anche il posto all'ombra un po' di spesina o quanto mi piace a me quando il frigo è pieno voi non lo potete immaginare mi piacciono i pomodorini e i ciliegini ho perso quasi 5 kg 4 kg e 600 grammi si perché ero giocano la panza che mi sembrava Buddha oggi ci facciamo questa ragazzuoli la vedete bene la pizza reflex guardate come Zuma guardate come mette a fuoco prendi questa buon appetito buon appetito mettete la versione al bicchiere mi piace ma se non mi piace Mimì non mi mangiare la pizza eh ma per te ci sono le tue crocche Mimì va bene, coccola, no, ti da un pezzettino di questo piccolo piccolo, no, niente poverino, magari lo vuole perchè intanto è già cagato 1 euro 19 amore, pomodorini del supermercato tedesco, vaca buone, ma diventa caro il supermercato tedesco vi l'ho detto, la cashier mi ha fatto la faccia, Mimì lascia stare la Sony vuoi la birra Mimì? oi ragazzi è una buon gustaglia eh, le piace la mozzarella della pizza, vai, mangia amore, mangia non fai finta, mangiala ieri sera gli ho fatto un filmino a ragazzi in 60fps di come mi ha detto il mio amico quello che fa le foto belle e la lista gattina una roba tremenda eh degna figlia di camper job beh anche se non l'abbiamo fatto così da noi le volevamo più bene che se l'avessimo fatto, vai, scusate se parlo con la bocca piena ma tanto lo faccio lo stesso quindi ho sentito di quelle bipate in giro che lasciamo perdere, va ma io me ne frego, va davanti guardare uno rovinato guardare uno rovinato e adesso vi saluto e vi do un bacione, alla prossima beh, ciao! ciao